Una coppia di rumeni ha cercato e ha chiesto di tornare a casa. Ecco, allora io mi offro di pagargli personalmente, quindi non con le casse del comune, il biglietto. Basta che vengano in comune, io gli pagherò la somma per prendere il trenino o il bus e per tornare in Romania.